Allora, io non riesco a comprendere una cosa. Cioè, lo Stato ha già fatto superare concorso a questi docenti. Ora, sento, dal Partito Democratico ci dobbiamo chiedere se sono docenti migliori o meno. Ma se lo Stato ha previsto un concorso che questi docenti hanno superato, avrà valutato che sono i docenti migliori da andare nelle nostre scuole. O sbaglio, o questo Stato fa le cose a caso. Poi, un altro aspetto grave che non viene sottovalutato è che noi abbiamo sì un insegnante assunto a tempo indeterminato, ma che sarà precario a vita. Ogni tre anni dovrà cambiare scuola, ogni tre anni sbattuto a 50 chilometri, ogni tre anni cambiare anche insegnamento, perché diventa una pedina del dirigente scolastico.